con le ciliegie ferrovia sono tutti buoni adesso facciamo prendiamo questa adesso prima ce la mangiamo e poi guardate arrivacciamo con le ciliegie ferrovia sono tutti buoni adesso ne prendiamo una con il gambo lungo prima la mangiamo e poi mangiamo questo e facciamo una cosa divertente e voilà grazie grazie grazie